I campioni del mondo sono loro, i campioni d'Europa sono loro, la squadra più ricca del mondo sono loro, è normale che i turni lo passino loro, noi abbiamo il compito di metterli in grandissima difficoltà, io so che loro sono i campioni del mondo ma noi abbiamo la tifoseria campione del mondo e domani sera lo vedrà tutta Europa e sarà un ambiente difficile, la partita per noi è quasi impossibile visto che loro segnano da 46 partite consecutive ma potrebbe diventare anche difficile, per loro non sarà impossibile può darsi che gli faremo girare leggermente i coglioni.